Siamo a Pisa, alla periferia nord della città. Quello che vedete alle mie spalle è un palazzo di nuova costruzione realizzato dal comune ridenominato Progetto Hope. L'idea era quella di utilizzare questo edificio per alloggi popolari da assegnare a over 65 che potessero prendere a parte anche a delle attività utili affinché venisse ritardato il loro ingresso nell'età della non autosufficienza. Tuttavia l'edificio è stato inaugurato in Pompamagna, anche alla presenza del sindaco, ma a delle attività non c'è ombra e parlando con dei residenti abbiamo scoperto che molti degli edifici risultano ancora vuoti. Quindi siamo qui per vedere che cosa succede ai progetti europei dopo la loro inaugurazione.